Secondo lei è giusto chiudere le vie del centro nei fine settimana? Sì, è giusto. E li chiuderebbe anche, diciamo, in tutto il periodo natalizio o solo il fine settimana? Se le persone non riescono a capire che forse bisogna cercare di darsi una regolata, per forza. Penso proprio di no. Quindi lei dice, lasciamo tutto aperto e poi? Il contagio? Il contagio? Chi se lo prende, se lo prende. Quindi essere un po' fatalisti? Bisogna. Tutto aperto deve essere. Io apro dei negozi e dico che possiamo uscire, come cittadino esco. Io adesso sono anziana e quindi mi proteggo, ma non posso dare la colpa a chi va in un bar nel momento in cui io lo apro. Chi dico, apri il bar, apri i negozi, ma non c'è andare, stai attento, non esiste. È gestibile e penso si possa fare. Per evitare la chiusura? Esatto, la chiusura non può essere il fine ultimo di ogni cosa. Se c'è troppa gente si fa fatica a mantenere le distanze. Quindi sì alle chiusure? Sì. Non c'è un altro modo per arginare il problema? Si chiude e basta? Bisognerebbe in qualche maniera controllare il numero, farli a numero chiusi, però la vedo abbastanza complicata a livello organizzativo. Non ci sarebbe un'altra soluzione, secondo lei, possibile? No, in questo momento no. Quindi lei dice sì alle chiusure? Sì. Sì. Sì.